Musica Un cordiale saluto a tutti voi, buongiorno, ben ritrovati carissimi telespettatori di Fano TV sul canale 17 come tutte le mattine alle 7 e mezzo in diretta siamo qui per leggere i giornali, il Carlino, il Corriere, il Messaggero che tra poco sfoglieremo con il nostro test screen prima come sempre però diamo uno sguardo al Santo del Giorno e alle previsioni del tempo allora per quanto riguarda il Santo del Giorno oggi è San Lanfranco è stato Vescovo, il sole è sorto alle 5.26 e tramonterà alle 20.55 per quanto riguarda il tempo invece andiamo sulla pagina del meteo.it per seguire un po' l'evolversi del tempo nella giornata di oggi che come vedete già sull'Italia sta portando piogge temporali sul nord-est in particolare sul Veneto come vedete poi via via scenderà giù questo maltempo e toccherà anche la nostra regione la nostra regione nella giornata di oggi, stasera in particolare nella serata allora andiamo adesso a guardare quello che è le previsioni no, come si dice la nostra webcam eccola qua vedete questa è la fotografia delle 7.30 del mattino sono 23 gradi e 8 cominciamo allora a leggere giornali c'è il consiglio regionale che si è insediato ieri per la prima volta con a capo il pesarese Luca Ceriscioli allora il titolo del messaggero la pagina delle Marche sciapichetti e bravi ecco la nuova giunta ma è bufera nel Partito Democratico i marcoliniani dicono patti disattesi accusa il segretario del PD Comi il maceratese è ancora indagato per l'inchiesta spese pazze il gruppo che sosteneva l'ex assessore Marcolini ora mette in discussione Lucerini pronto a prendere il vertice dei democrat Lambertucci io fatta fuori da una campagna di fango anche i centristi nervosi dunque come spesso succede quando ovviamente qualcuno resta fuori c'è anche qualche manumore che si registra Marche la nuova giunta regionale vedete la formazione con i sei assessori tre donne e tre uomini alla guida il presidente Luca Ceriscioli poi vice presidente Anna Casini del PD Loretta Bravi, Popolari Udc Manuela Bora del PD Angelo Sciapichetti del PD Fabrizio Cesetti del PD e Moreno Pieroni uniti per le Marche questa è la formazione della giunta il governatore Ceriscioli si presenta in jeans tra i consiglieri è il festival del vernacolo vince il casual anche se la Leonardo di Fratelli d'Italia azzarda una giacca rossa accenti marcati dal Piceno al Pesarese dal Maceratese stretto al Lanconetano e poi c'è tra il pubblico qualcuno che ironizza dice qui serve il traduttore perché quando parlano non si capisce subito bene al volo insomma miglioreranno speriamo cambiamento in 300 giorni annuncia Ceriscioli che dà subito la linea del suo programma prima seduta dell'aula dopo le elezioni Antonio Mastro Vincenzo eletto presidente dell'Assemblea Legislativa il primo atto dice recuperiamo i fondi per il sociale la parola chiave deve essere la regione fa regia e anche qui avrete se acquisterete il giornale questa mattina la possibilità di vedere un po' come la composizione i partiti, le percentuali, i numeri e quant'altro Sole è assicurato adesso andiamo a Pesaro Sole è assicurato per due hotel su tre la convenzione con gli albergatori è stata firmata ieri il sindaco di Pesaro Ricci dice abbiamo una carta in più rispetto ad altre località il comune ha investito 15 mila euro altri 10 mila dall'Unipol per l'assicurazione non basta un'acquazione ma una vacanza quasi rovinata il vice presidente dell'associazione degli albergatori Tomassini lancia l'idea di un noleggio di biciclette elettriche su Viale Trieste andiamo sull'altra pagina del messaggero nuova questura il ministero dice sì Ricci è arrivato il parere favorevole favorevole l'ex intendenza di finanza risulta idonea sul piatto ci sono 4 milioni di euro del demagno vedremo ora se saranno sufficienti poi c'è un problema a Pesaro che è quello tra il comune e la sovrintendenza perché? perché sulla questione Rocca Costanza pare che De Marinis abbia richiamato il comune su mancate richieste di autorizzazione mentre dal comune dicono no sono solo problemi formali insomma Ricci poi dice in un altro giornale ma non lo vediamo stamattina tira dritto e andiamo avanti lo stesso a Marotta invece la cronaca un ubriaco provoca un incidente fugge schiantandosi in autostrada a finire nei guai è stato un cittadino di origine brasiliana di 30 anni che a bordo di una mini cooper nella notte a cavallo tra sabato e domenica ha dato un'escandescenza di fronte agli agenti della polizia stradale di Fano la pagina della città della fortuna appunto apre con la viabilità nuova viabilità nel centro storico in particolare nella zona zavarise più sicurezza per residenti e pedoni l'amministrazione istituisce sensi unici modificando anche i criteri della sosta la mini rivoluzione comporterà una perdita di parcheggi stimata tra il 10 ed il 20% il vice sindaco marchegiani dice recupereremo parecchio spazio da tempo gli abitanti lamentano dei rischi poi alla spiaggia dei talenti accesso difficile per i disabili e fondazione Berardi replica a bene comune la lista civica la lista politica l'associazione politica botta e risposta tra il vice presidente e l'associazione sulle dichiarazioni che riguardano la Caritas apriamo adesso il resto del Carlino doppio attacco ai negozi di telefonia ai furti ride notturno a Pesaro in via Giolitti a Fano in via Roma razzie in pochi minuti hanno preso di mira i negozi di telefonini guardate le fotografie uno dei titolari i grassetti dice siamo qui da sette anni mai visto un assalto del genere la pagina di Fano invece racconta il sogno di Andrea che dal centro Itaca va a Los Angeles un fantino per passione che adesso va parte partirà per Los Angeles con la nazionale di equitazione è uno stagliere per professione a Los Angeles rappresenterà l'Italia negli sport equestri degli special Olympics World Games con 7000 atleti diversamente abili in rappresentanza di 177 paesi tra cui appunto c'è anche Andrea la giunta seri è in ritardo su tutto quanto è il giudizio impietoso del ex sindaco di Fano Stefano Aguzzi della sua lista la tua Fano che scende in campo appunto per fare un bilancio del primo anno di governo di Massimo Seri del partito del centro-sinistra le critiche peggiori sulla sanità e il rinvio del voto del bilancio poi sotto invece si parla di università sul carlino di oggi Michele Cicoli ricercatore premiato dal presidente della Repubblica Mattarella importante riconoscimento al giovane fisico fanese impegnato a Bologna bene passaggi festival ma c'è il rischio che passi in altri luoghi gli organizzatori si appellano alla regione poi arriva la prima vittima Varotti chiude la bocca a Mezzotero sulla disfida della corte malatestiana questa disfida ha mietuto la sua prima vittima la Confcommercio Provinciale infatti ha esautorato il suo segretario locale Francesco Mezzotero commissoriando di fatto la sezione fanese almeno per quanto riguarda la comunicazione con la stampa che da oggi dovrà avere l'imprimatur quindi il nulla hoste il benestare della sede pesarese per la Confcommercio dice Varotti parlo io andiamo sull'altra pagina del resto del carlino confermati 30 anni all'assassino di Lucia Bellucci Trento al momento della sentenza l'abbraccio del fratello gemello con i genitori nessuno ce la ridarà è l'amare consolazione ma almeno è stata fatta giustizia contro un reato orribile per la prima volta in regione siamo sulla pagina di Urbino e Montefeltro del Carlino per la prima volta in regione un assessore dal Montefeltro esulta l'Udc Provinciale per Loretta Bravi la professoressa di Carpegna sarà il primo assessore regionale espresso dal Montefeltro con la nomina di Loretta Bravi popolari marchi Udc resta ufficiale resa ufficiale ieri dal presidente Cericioli il territorio ha infatti ottenuto un riconoscimento che nella storia dell'ente rappresenta un'assoluta novità il nome dell'insegnante di storia e filosofia di Carpegna classe 1960 sposata con due figli era già emerso tra quelli papabili per entrare in giunta ma trasmettite e indiscrezioni l'annuncio è stato alla fine una sorpresa adesso chiudiamo la rassegna con il Corriere Adriatico dalla pagina di Pesaro biglietto unico i sindaci scrivono al ministro un solo ticket un solo biglietto per i musei civici di Pesaro Urbino e Fano lettera firmata da Ricci Seri e Gambini Palazzo Ducale scelto da Franceschini il ministro tra le 20 strutture italiane aperto il sabato sera fino alle 23 a Fossombrone aggiornati invece 6 mila numeri civici controlli contro gli evasori della tassa sui rifiuti l'amministrazione ha recuperato un tesoretto non mancano le novità a Fossombrone in tema di numerazione civica e di individuazione degli evasori della tassa rifiuti il comune sta completando la rivisitazione dell'intera numerazione civica al punto che diventerà il più aggiornato della regione dalla pagina di Fano del Corriere Adriatico a centropagina eventi l'estate è arrivata prima del bilancio non c'è un programma stampato per i turisti il vice sindaco Marcheggiani dice stiamo aspettando il sì del consiglio sui conti con l'approvazione che è prevista domani poi daremo il via libera alla tipografia per stampare 10 mila opuscoli nel frattempo diversi disagi in città sopra invece deteriorato il percorso dei disabili appello al sindaco Seri è un'iniziativa di Prima l'Italia per il ripristino della passeggiata lungo la spiaggia dei talenti nella zona Arzilla inaugurata tre anni fa Polleggiani di Prima l'Italia comunica l'esistenza di problemi e la preoccupazione ora che regni il silenzio poi sono stati premiati con una pergamena è stato premiato Eric Fuld che da sempre è ospite dell'hotel Europa ama la cultura locale è un chirurgo svizzero di fama nazionale e pensate che da oltre 50 anni viene tutti gli anni in vacanza a Fano e quindi a lui e alla sua famiglia alla sua consorte è stato consegnato l'attestato di iscrizione al club amici della riviera di Fano in tutto il centro storico mancano i bagni pubblici bisogni fisiologici nella piazzetta del teatro una mamma cerca guardandosi disorientata in piena piazza 20 settembre l'indicazione dei bagni pubblici la propria figlioletta si agita ha un urgente bisogno di andare in bagno però purtroppo non c'è né il cartello e non ce n'è che il bagno e quindi bisogna un po' raggiarsi come si fa di solito insomma si va in un bagno pubblico in un bagno di qualche bar insomma e si va così bene comune i soldi alla Caritas sono sopravvivenza e dignità stigmatizzate le dichiarazioni della fondazione Carifano secondo cui quei soldi secondo cui di quei soldi non resterebbe niente poi ancora Casa della Cultura Villa Valentina da Marotta la proposta avanzata dalla minoranza arriva in consiglio comunale nella foto un consigliere Nicola Barbieri infine a Senigallia scopre il furto e si sente male è successo nel tardo pomeriggio di domenica ad una signora che rientrando verso le 19 a casa con il marito dopo una passeggiata al mare ha notato la porta della sua abitazione di via Bramante aperta e dentro tutto a suo quadro la donna ha avuto un malore il marito ha dovuto chiamare un'ambulanza ed è tutto per la rassegna stampa di oggi Occhio ai giornali torna domani mattina alle 7.30 questa sera invece il nostro telegiornale alle 20.30 Occhio alla Notizia con tutti gli aggiornamenti e il racconto di questa giornata che è appena iniziata grazie per averci seguito buona giornata e a domani a